La domanda è abbastanza intrigante, se pensiamo al video che abbiamo appena visto, estremamente suggestivo, aveva un grande assente ed è l'assente che forse è il soggetto più importante nel ridisegno dei modelli culturali e delle relazioni, che è il tema dei media digitali, che è stato semplificato mettendo il media meno controverso che è Skype, che è semplicemente un telefono riportato a tempi più moderni. Anna Magnani non sarebbe mai andata a attraversare la città oggi, avrebbe chiesto su Facebook dove trovo la coppa del nonno e non gli avrebbe detto guarda l'ho assaggiata, è una vera zozzeria, compra quest'altra cosa che è molto meglio. E se la sarebbe risolta senza rischiare la morte attraversando la città. Questo è un tratto estremamente importante, quando pensiamo alla rivoluzione digitale spesso gli attribuiamo sostanzialmente una valenza tecnologica, abbiamo più punti di contatto, adoperiamo molti più schermi rispetto a prima, i più pessimisti dicono che è la fine della letteratura, è la fine dei film come li conosciamo, e probabilmente è l'alba di un'altra cosa che leggiamola così. Però ha anche un passaggio estremamente importante, mi tengo per ultimo il numero perché fa effetto, è un piccolo colpo di teatro alla fine. Noi passiamo da una realtà nella quale pochi potevano presentare modelli, e il nostro mestiere era semplicemente di guardarli e il più possibile aderirci, a un mondo che è fatto esattamente alla rovescia, dove noi possiamo avere un caleidoscopio di personalità, di tratti, di gruppi, di appartenenza, direi senza confini, dove addirittura il problema più grosso non è più il contenuto in sé, che è un tema classico di quando il contenuto è costoso per essere generato. È un contenuto che va a parlare a tantissimi, il problema è la rappresentazione della mamma in pubblicità. Perché è sempre di una tristezza, ghiacciata come le famiglie quando vengono rappresentate? Perché dal punto di vista tecnico io devo trovare una specie di punto di medietà tra persone estremamente diverse, e tristemente mi appiattisco sugli stereotipi. Dall'altra parte, noi abbiamo invece la possibilità di ricercare e di essere parte esattamente di quello che ci sembra vada bene a noi, in una logica esattamente rovescia, non dobbiamo più aderire a niente, è il resto che aderisce a noi. Io ho preso, fatta da una nostra collega, presentato al nostro osservatore Multicanalità 2011, un passaggio che secondo me è carino per darvi l'idea della quantità di modi alternativi che noi abbiamo adesso di risolvere un problema o di condividere qualche cosa rispetto al passato, e come rispetto a questa varietà, l'autorevolezza, il senso di appartenenza, la rappresentazione del sé, sono completamente stravolti. Tema, notte in bianco con un bambino piccolo, perché piange? Allora, se chiamate pediatra, quello vi dice guarda purtroppo sto dormendo. Se chiami i nonni, dopo devi stare con la notte, con i nonni che non dormono, perché si agitano anche loro, quindi è un'altra di quei passaggi che è meglio evitare. Cosa si può fare? Allora, vediamo se vi trovo il secondo passaggio. E dice chiedo, a che cosa chiedo? Cosa fareste voi? Io andrei su internet, e su Google scriverei, non dorme. Tanto Google lo sa che se non dorme sto parlando di un bambino, perché... Allora, qua ci sono segnati soltanto tre possibili forum. Se io vado su alfeminile.com, che è un forum di matrice europea, che viene da Ofemina in francese, trovate soltanto, che parlano di questa roba, mezzo milione di post. E sono il frutto di 4 milioni di utenti. Che vi dicono, non dorme perché c'è questo, perché c'è quell'altro, poi è provato, non è provato. Poi non provare tutto è sempre... E tutti sono svegli. E tutti sono di solito. Al forum salute ci sono 8300 post, con mezzo milione di utenti. A nostrofiglio.it, e non mostrofiglio, come stavo leggendo con gli occhiali sbagliati, nostrofiglio.it, mi sembrava un nome bizzarro, avete circa mezzo milione di utenti e 7200 post. Che hanno una grande forza, hanno la forza della conversazione. E qui non devono essere affascinanti, seducenti, più di tanto, ma sono esattamente quello che serve a te. In una conversazione posso chiedere, scusa ma sei proprio sicuro? In poco tempo ho una risposta, che è una risposta che serve a me per come sono fatto io. Ecco, il grande assente in termini di media digitali non è tanto internet che... E' in giro dagli anni Ottanta, insomma, ha già avuto tre crisi, le bolle, le cose. Ma il vero passaggio è che è una tecnologia che ha abilitato la possibilità di rappresentare l'infinito caleidoscopio di ciò che vogliamo essere. Fino addirittura a spingere le aziende e le marche a fare progetti alla rovescia. Una nota marca di Pannolini, facendo delle indagini con le consumatrici, non in giro per il mondo, nel nostro paese, e se faceva con i consumatori maschi, trovava la stessa cosa. La cosa più insopportabile della pubblicità è che un modello al quale io non appartengo mai... Non si addormenta? No, non si addormenta. Che devi fare? Non è simpatico, delle volte no. Non è che tutte le volte sei colto dall'improvviso amore paterno o materno. E questo che cosa genera? Un senso costante di inadeguatezza. Sai cosa c'è? Una volta me lo tenevo e mi disperavo. Adesso vado su internet e trovo che di gente che dice ma sai che quella pubblicità lì è una sciocchezza epocale? Ma io ho il problema che ho otto ospiti a cena, ho questo che non vuole mangiare le cose, fuori più... C'è qualcuno che ha avuto la stessa cosa? Sì, incredibile. Guarda che... E hanno ritrovato delle blogger con le quali addirittura hanno fatto uno spettacolo teatrale. Blogger e utenti di blog hanno scritto uno spettacolo teatrale su che cos'è la vera mamma. L'attrice era, mi pare, Mannino. che si presta. Tra l'altro selezionata dalle persone che hanno partecipato a creare questa narrazione. E nello spettacolo, che è estremamente divertente, ne trovate delle tracce su YouTube, oddio, oddio, un'altra cosa tecnologica, un'infirala... È veramente, assolutamente squisito e vedrete che è una narrazione delle cose tra persone normali, di una vita normale. Ecco, questo è forse il passaggio più grosso. La rilevanza e l'autorevolezza in assoluto di queste fonti nasce dalla conversazione, dalla possibilità di essere smentiti o commentati in maniera aperta 24 ore al giorno sempre. e il secondo passaggio dà la possibilità di non avere per forza pochi modelli ai quali aderire. E quindi sono un'antitesi al senso di inadeguatezza. Questo, per chi come me è un economista di impresa, è un dramma dal punto di vista delle aziende. Prima io ti dicevo che dovevi essere una mamma fatta così. la famosa famiglia Molino Bianco, che non rideva mai, non so se ve lo ricordate, sorrideva. Un po' così, un po' così, buongiorno, buongiorno. Mai una risata, mai uno che sbatte la porta, un'altra, sempre questa melma, questa melassa tristissima, ma era un modello. Adesso è il contrario. Io ho quel modello lì, ma non lo vuole più nessuno. Sono alla rincorsa dei modelli che mano a mano si evolvono. Ieri ho fatto il mio sottotentativo sempre, ho messo su Google, mamme e blog. Ok? Trovate delle cose spettacoli, sono le ecomamme, le mamme artiste, arte e mamma, come sedano e letteratura russa, cioè è una cosa che di per sé non ha un grandissimo... Un nome fantastico, io le ho d'altro. Però esistono e ti permettono di essere esattamente ciò che vuoi essere. E starà a me il contrario, organizzazione abituata a creare il senso, essere in affanno e doverlo rincorrere, no? Fino a chiedere per paradosso l'aiuto di persone vere, perché mi aiutino a ridare senso alla mia marca attraverso uno spettacolo teatrale, attraverso cose di questo tipo. Quindi, se posso dire, come contributo, i media digitali non sono soltanto un aspetto tecnologico, il quale, io continuo a pensare, sia assolutamente marginale, rispetto alla grande portata che c'è dietro, di ridisegno dei poteri nel sistema, no? Ridisegno dell'autorevolezza, dell'essere o meno un esperto, di essere riconosciuto, di poter condividere le cose, no? Che sia il più banale Facebook o il più sofisticato dei blog o dei social network, per pochi addetti, questo è uno dei passaggi più grossi. Ora, l'ultima cosa davvero è un piccolo colpo di teatro. Questa cosa, noi la misuriamo dal punto di vista del consumo. Quindi andando a vedere quanto i media digitali e questo comportamento influenza il modo con il quale le persone comperano. In Italia, non, ripeto, in altri paesi, noi lo misuriamo dal 2007, insieme a Nielsen, in Italia questa cosa riguarda più della metà dei consumatori, i quali guardano la tv ma non ci credono, guardano i modelli culturali ma non ci vogliono affartenere. Ed è una rivoluzione silenziosa, ma che spiega molto di più gli affanni delle aziende, che non lo spread, i bund, le cose. È un cambio di paradigma epocale. Solo che è stato fatto da tante persone con piccoli gesti. E quindi non lo trovate magari così drammatico, no? Ma il fatto che uno non metta le inserzioni in tv è perché se vi faccio vedere i dati in dettaglio vi spaventate. Ti serve per comprare? Assolutamente no. Ma neanche mi serve per dirmi delle cose importanti. È un rumore di fondo. Cosa attribuisce la televisione come grande forza? Mettiene compagnia. E' come quando è a casa, non si fa accendere la tv e poi va via. Però almeno c'è uno, è come uno in un'altra stanza che parla. Grazie, mi sembrano moltissime suggestioni che sicuramente potranno essere riprese. Io darei la parola proprio per la tematica a Claudia De Lillo. Poi seguirei con Simona Caporia che è la tv per finire con le due testate giornalistiche che sono due testate molto impegnate e che potrebbero forse darci, ci daranno la prospettiva che vorranno. Claudia. Grazie. Eccoci. Buongiorno a tutti. Sono molto contenta di essere subito dopo Fabrizio Pini perché sono esattamente dall'altra parte della barricata. io sono dentro internet, sono quella che lui digita quando guarda mamme e blog, cosa che hai guardato mamme e blog. Ci sono io. Effettivamente, poi su del titolo di questo convegno io mi sento molto più dalla parte del genitore che lancia il grido d'allarme che non dalla parte del media che dà conforto. Perché la mia storia è strana. Io faccio la giornalista finanziaria, ho studiato economia e commercio e qui non c'entro veramente niente se non per il fatto che sono una mamma di tre figli. Una mamma un po' amante delle iperboli quindi non mi sono fermata a uno, non a due, non a tre. No, a tre sì. Aiuto, un lapsus tremendo se mi sentisse mio marito. Ho tre maschi. E ho iniziato in modo veramente ruspante. Sei anni fa io tornavo dalla mia seconda maternità a lavorare e volevo misurarmi con una scrittura diversa rispetto a quella del giornalista finanziario. Non sono dotata di grandissima fantasia e quindi non riuscivo a inventarmi delle storie. L'unica cosa che potevo raccontare era quello che aveva intorno. Quindi la mia famiglia se fossi stata una studente gaudente avrei raccontato la mia vita da single divertente se fossi stata una petroliera a largo del Golfo Persico avrei raccontato quello mi sono trovata a raccontare di mamme. Detto questo la famiglia era assolutamente un mezzo il mio fine era la scrittura. non volevo fornire un modello non volevo dare dei consigli non volevo fare nulla se non raccontare una storia la storia che avevo sotto gli occhi era la mia e quindi ho raccontato il mio mondo senza filtri didattici senza ambizioni senza un background professionale nulla. Così mi sono buttata nella rete che è un posto meraviglioso dove tuffarsi nel senso che posto che nessuno scrive per se stesso cioè se uno scrive scrive per gli altri uno si può raccontare delle favole belle ma se uno scrive scrive per essere letto e la rete è meravigliosa perché tu scrivi se qualcuno passa ti viene a leggere se non scrivi niente di merotevole nessuno ti legge però non dai fastidio a nessuno a me questa cosa di non dar fastidio a nessuno piaceva tantissimo. E ho iniziato così diciamo un'altra ambizione oltre a quella di scrivere in modo decoroso era creare identificazione cioè raccontare una storia in cui altri si potessero riconoscere questo è stato parlare di persone rendendole personaggi un po' per salvaguardare me mio marito i miei figli e i miei rapporti con loro con i vicini di casa perché comunque la scrittura è uno strumento potentissimo da questo punto di vista quindi siccome io ho usato la chiave dell'ironia rischiavo di avere tutta la famiglia contro perché per farla spiritosa come dire diffamavo tutto il mondo intorno a me quindi raccontare una storia privata rendendola universale un fumettone ecco va veramente senza alcuna ambizione nel giro di poco tempo cioè poco tempo allora questo blog c'è da sei anni in questi sei anni io sono arrivata a 11 milioni di visitatori e 6.000 visitatori al giorno che sono un numero almeno per me assolutamente cioè non me l'immagino neanche 6.000 persone che vengono che vengono lì tutti i giorni e e si leggono i fatti nostri infatti la domanda che mio marito continua a porsi è ma perché cavolo tutta questa gente è interessata ai fatti nostri ed è una domanda legittima allora io proprio in occasione di questo di questo convegno e avendo letto la domanda della professoressa Mantovani ho cercato di dare delle risposte cioè perché una tizia che fa un blog di colpo si trova al centro di una comunità numerosissima i miei post ricevono centinaia e centinaia di commenti e ho cercato di darmi delle risposte fermo restando che ogni tanto mi sento un po' come Forrest Gump che corre 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 per tre anni e dietro a questa fila di gente lui non sa perché tutti pensano che abbia chissà che verità da dire e poi si ferma e tutti dicono si è fermato adesso parla e lui dice sono un po' stanchino ecco io mi sento un po' così detto questo però i numeri sono quelli da questo blog sono nati dei libri è nata una rubrica su un giornale serio quindi insomma qualche interrogativo devo purpormelo e forse può essere anche utile per il dibattito allora io ho pensato che uno dei motivi del successo di questa esperienza che non è un'esperienza solo mia di condivisione ma anche della comunità che si è creata della gente che condivide che scrive le sue esperienze perché poi la forza di un blog è anche il numero di persone che partecipa in modo attivo non solo che viene a leggere allora io ho pensato che in parte sia il fatto che parlo di me parlo di me usando un filtro abbastanza blando ma in modo assolutamente onesto quasi spudorato cosa che forse i pedagogisti e i giornalisti tradizionali fanno meno magari raccontano storie ma non parlano in modo così impudico di se stessi e quello che succede quando si parla di sé è che tutti hanno voglia di raccontare la loro questa è una cosa molto bella tu racconti un fatto tuo non proprio la miseria della quotidianità perché diciamocelo se racconti la miseria della quotidianità a tutti viene una gran tristezza e nessuno ti viene più a leggere però raccontando che cosa ti succede per la testa alle persone viene subito voglia di raccontare quello che succede a loro e questo inevitabilmente crea empatia e l'empatia è molto potente un secondo motivo è proprio il fatto di raccontare le miserie di rompere quest'idea del mulino bianco che adesso vale molto meno però sei anni fa quando io ho cominciato veramente un po' la famiglia era ancora quella cosa lì era un po' la mamma felice realizzata l'angelo del focolare il papà che tornava a casa con la cravatta io non vivo una situazione esemplare io vivo una situazione caotica come moltissime persone noi abbiamo fatto una scelta bislacca per cui mio marito vive a Londra e fa avanti e indietro e quindi io raccontavo una storia racconto una storia che non è non è che in tutti ci si possono riconoscere però una storia anche di sfighe e questo crea simpatia empatia e voglia di andare a guardare che cosa succede anche il fatto di dire io forse ho sbagliato tutto cioè svegliarsi una mattina o meglio la sera ti vengono questi pensieri di solito li hai messi a letto faticosamente tutti e tre e dici ma io ho fatto una cretinata galattica ma io non sono fatta per fare la madre e rendersene conto dopo tre figli dirsi ho sbagliato tutto mi trasformo in strega non è giusto le ambivalenze la voglia di fuga ecco queste cose forse adesso un po' c'è più sincerità ma fino a qualche anno fa erano delle cose che ognuno si teneva per sé e allora far vedere anche il lato scuro di se stessi come donna come moglie come madre è una cosa forse interessante per chi si affaccia su questo mondo e per chi condivide le stesse esperienze e si sente sbagliato no non siamo sbagliate o meglio siamo sbagliate ma siamo tutte sbagliate quindi va benissimo così quindi siamo un po' giuste poi un'altra cosa ecco che io ho usato dall'inizio è stata la chiave dell'ironia perché credo che appunto raccontando storie così poco appassionanti come la vita domestica usare una chiave che faccia ridere trasformare le storie in un fumetto e io non so disegnare però un po' l'idea è quella proprio del di un mondo un po' surreale un po' fumettoso crea così divertimento e uno non è che viene in rete per abbattersi viene anche per per ridere per divertirsi ultime due cose io ho fatto un corso di scrittura creativa che mi ha illuminato questo non è una pubblicità il corso di scrittura creativa però è una pubblicità al fatto che ogni tanto ti trovi in posti in cui pensi di trovare qualcosa e trovi altre la nostra maestra di scrittura creativa era una maestra di vita veramente che mi ha insegnato una serie di robe su come rapportarsi con i maschi insomma era una donna fantasca se volete in privato poi vi dico anche come si chiamava e lei diceva sempre diffidate da chi non ha una visione del mondo e quindi io ho cercato in realtà forse inconsapevolmente l'ho cercato di fare fin da subito di pur raccontando episodi molto piccoli molto minimalisti a volte ho cercato di fare in modo che trappelasse sempre la mia visione del mondo non solo educativa ma sulla vita e e da qui viene un'altra l'ultimo l'ultimo punto che mi sono l'ultima mia spiegazione è appunto che da questa visione del mondo dalla mia visione del mondo emerge sostanzialmente un grande amore per la vita questo sicuro perché se uno fa tre figli è pazza se non ama la vita ma soprattutto un'etica allora a me sta molto a cuore cioè purtroppo certi discorsi alti etici adesso senza nulla togliere la collega di famiglia cristiana però certi temi alti li trattano soprattutto i cattolici che per carità fanno benissimo e loro hanno ottimi motivi per farlo e hanno anche una missione per cui fanno bene a farlo però mi sembra inconcepibile che gli atei quelli che non ci credono facciano più fatica a fare discorsi etici e a veicolare una visione del mondo in cui l'etica è fortemente presente cioè ci sono delle regole fortissime ecco io questo nel mio piccolo ho cercato di farlo e forse questo aiuta perché avere degli appigli che non siano appigli superiori ma sono appigli quotidiani cioè io faccio questo perché credo che sia giusto perché il rigore l'integrità è un valore è un valore in assoluto è un valore laico ecco forse credo che sia importante grazie grazie a Claudia De Lillo mi piace ricordare che ha avuto di recente anche un'onorificenza proprio per il suo lavoro ironico ed etico di supporto e di conciliazione dal Presidente della Repubblica quando mi sembra bello ricordarlo adesso darei la parola a Simona Capria che per quello che vorrà dirci ma che in qualche modo è una voce della televisione e del lavoro prevalentemente attraverso la televisione che come diceva Pini è un rumore di fondo ma forse non soltanto poi ne discuterete poi ecco buongiorno a tutti allora per quanto possa sembrare strano io sono arrivata in televisione veramente per caso senza cercarlo perché non mi affascinava parecchio la televisione di per sé a vent'anni ho deciso di andare in Messico per il diritto dei bambini ho studiato le magistrali consulenza pedagogica giuridica il diritto dei bambini no? questa cosa enorme poter lavorare per questo e poi sono capitata per caso in questa esperienza e mi sono detta accetto la sfida qual era la mia sfida? quella di far capire non so se ci sono riuscita ma sto lavorando ancora per questo quello di spesso in televisione si vede questa mamma con i capelli in piedi disperata che chiede aiuto alla tata alla pedagogista alla vicina di casa non si sa bene a chi per riuscire a gestire la sua quotidianità ma io mi sono detta ma voi immaginate invece il bambino che guarda questa mamma con i capelli in piedi che non sa assolutamente in quel momento cosa deve fare e allora ho detto forse è il caso di spostare un pochino l'attenzione e vedere un attimino la visione di questo bambino che si sente un po' perso ma se io fossi arrabbiato tu te ne accorgeresti o saresti ancora presa da tutte le tue mille preoccupazioni quotidiane o quant'altro e soprattutto sentirsi un genitore inadeguato fa parte della normalità sì assolutamente sì è una domanda che ci si pone penso quotidianamente quando si diventa genitori ma la cosa più importante che io vorrei far passare è quella che sentirsi un genitore inadeguato quindi porsi la domanda sto facendo la cosa giusta vuol dire che già sia un genitore capace prendere possesso del proprio ruolo indipendentemente da quello che senza delle regole appiccicate al frigorifero che ha scritto qualcun altro che forse non sono per la tua famiglia ma sono per tutte le famiglie e tutte le famiglie non sei tu ho scritto un libro in merito a questo ma proprio perché vorrei che le mamme e i papà si facessero prendere da questo ruolo meraviglioso io gestisco un asilo nido sono coordinatrice di un asilo nido e ho a che fare con questi genitori nuovi perché io ritengo che indipendentemente dalla preparazione dal lavoro dalla cultura dall'età in cui si diventa genitori nel momento in cui si diventa genitori si è genitori neo genitori e quindi tutte le paure le preoccupazioni ho a che fare con mamme ovviamente di bambini 3-4 mesi con tutte le angosce e le paure che ci sono questa emozione meravigliosa che i bambini ci regalano che non sempre però la viviamo in maniera meravigliosa e quindi mi piace l'idea di riuscire a far comprendere al genitore che veramente farsi prendere da questo turbine di emozioni farsi conquistare viverle averne paura essere divertiti da questo ma farsi guidare dal bambino è importante il confronto è meraviglioso il confronto con i media i blog la televisione poter permettersi di parlarne adesso se ne parla tantissimo della genitorialità e questo è importante perché ci sono vari aspetti varie visioni ne parla il pediatra il consulente pedagogico insomma è meraviglioso poterne parlare però sarebbe meraviglioso anche che passasse veramente questa sorta di rapporto speciale unico che c'è solo tra quella mamma e quel papà e quel bambino quindi questa è un po' la sfida che io mi sono presa nel voler intraprendere questa esperienza un po' particolare della televisione mi rendo conto che non è sempre semplicissimo perché spesso mi si chiede la pillolina veloce quindi come si diceva prima ma non dorme cosa devo fare vorrei risolvere la cosa entro io tra una settimana riprendo al lavoro insomma riusciamo a farcela velocemente oppure non so devo andare a scuola materna dobbiamo togliere il pannolino è fine agosto inizia il 3 settembre quindi questa necessità di correre e di far correre un po' tutto e quindi spesso mi trovo veramente con la difficoltà di far comprendere che il lavoro del consulente pedagogico il lavoro di chi aiuta un po' a comprendere meglio cos'è la genitorialità non è quello di dare veramente la pillolina ma è quello di sostenere questi genitori che prendano veramente coscienza e pieno possesso del proprio ruolo ripeto non so se ci sto riuscendo non so se mai come si fa attraverso la televisione è veramente una risposta continua a a queste tematiche innanzitutto cercando di partire dal punto di vista dei bambini cioè ricordarsi sempre che non sono lì per dare il consiglio alla mamma ma sono lì per sostenere questo bambino che è veramente spaesato in un mondo che corre velocemente con una consapevolezza e una maturità di un bambino e con la difficoltà di stare dietro magari tanto quanto è difficile per un genitore star dietro a tutto questo tutta questa velocità che ci prende inevitabilmente nella contemporaneità quindi lavorare gestire una famiglia un rapporto di coppia sentirsi delle belle mamme delle belle donne e essere un papà presente ma continuare la propria carriera coltivare i propri interessi fare dello sport perché il fisico se no ne risente ma in tutto questo ricordarsi che anche c'è un bambino che deve convivere con un papà che deve essere un perfetto papà una perfetta mamma un perfetto lavoratore in carriera con dei nonni che comunque lavorano quindi la mia sfida è quella di spostare l'attenzione dai genitori ai bambini non è sempre facile perché ci sono invece moltissime ma anche le pubblicità la televisione quando vediamo vediamo l'immagine veramente di questi genitori che corrono di queste famiglie che sono in difficoltà ma dal punto di vista dei genitori nel gestire tutto allora spero e cerco sempre di farlo nelle interviste nelle puntate in televisione negli articoli sui giornali di spostare l'attenzione e di ricordarci sempre che nella corsa c'è sempre dietro un bambino che corre dietro con noi e la sua emotività a me piace molto parlare di emozioni dei bambini l'educazione alle emozioni che comprende veramente tutto perché soffermarsi un attimino sulla su come dimostrarle come parlare con loro come riuscire a sedersi un attimo sul tappeto e giocare con loro e farsi prendere dalle emozioni dei bambini ed educarle un po' alle emozioni quindi fermarsi un secondo e capire che ci sono questi bambini che hanno bisogno di questo di un attimino di calma spostare l'attenzione ma sono convinta del fatto che poi il risultato sia molteplice perché inevitabilmente questi genitori si sentono più umani in tutto questo non necessariamente perfetti ma prendere in considerazione che c'è un bambino che ha delle esigenze e fermarsi un attimino se riuscissimo a spostare questa attenzione secondo me ecco sarebbe fantastico grazie mi sembra che in questo discorso abbastanza incoraggiante su media anche questo potere possibile della televisione di modo molto evocativo riportarci l'attenzione sul bambino mi sembra molto importante e a volte chiamate in causa indirettamente o direttamente da Claudia le due in particolare Renata Maderna e Cristiana e poi la parola puoi far concludere questo primo giro a chi è il mio nome Manuela Trinci e poi riprenderei il giro chiedendo in modo da non prendere io tempo ai nostri partecipanti a questa tavola lunga ma come se fosse rotonda di reagire a quello che hanno sentito dagli altri o di aggiungere qualche cosa che desiderano dirò delle cose sparse perché gli spunti sono stati molti mi sembra che la domanda sia su io faccio il caporedattore a famiglia cristiano ho fatto per molti anni l'inviato legato soprattutto ai fatti legati alla famiglia ai fatti come potete immaginare sempre tragici e poi mi sono sono passata a occuparmi anche delle parti positive e belle volevo dire prima di spiegare come scegliamo i nostri argomenti il clima in cui mi sento che stiamo lavorando che mi sembra che su questi temi la stampa la televisione vive in due ambiti diversi e abbastanza lontani che sono da una parte una come dire quella che io descrivo la famiglia tutti i fiocchetti profumini una descrizione del momento dell'attesa del parto dell'avere bambini molto legata anche alle sollecitazioni del mercato dove tutto bello tutto stupendo le mamme sono bellissime sto parlando anche molto dell'iconografia perché sapete bene che noi giornalisti abbiamo il problema scriviamo ma poi dobbiamo di fianco scegliere le foto e quello è sempre un passaggio significativo si diceva prima qualcuno non si riconosce in certe descrizioni iconografiche quindi dicevo da una parte c'è questo mondo mi sembra molto profumato e dall'altra c'è una descrizione molto da bollettino di guerra cioè noi giornalisti abbiamo fatto uno studio su come presentavamo il mondo dell'infanzia al centro di Firenze dell'Istituto degli Innocenti e emergevano con questa descrizione con questi titoli un bambino su dieci sarà sicuramente vittima di violenza cinque bambini su dieci prima di avere quindici anni saranno vittima di un episodio di bullismo quattro su tre farà uso una cosa che io ho sempre pensato che neanche metta in una situazione di spaesamento i genitori ma anche chi genitore non lo è e non ci pensa minimamente perché vede questi titoli e l'ultima cosa al mondo che pensa di fare e mettere a mondo un bambino ecco io ho voluto fare questa piccola descrizione per dire noi ci sentiamo in questo immersi in questa atmosfera come scegliamo Famiglia Cristiano noi ogni settimana facciamo un'inchiesta familiare facciamo una cosa molto poco giornalistica che dai miei stessi colleghi viene ritenuta una cosa così che bisogna fare perché poi si passa agli argomenti veramente interessanti la cronaca la politica insomma queste cose degli argomenti familiari ci si chiedeva anche da quando abbiamo fatto il rilancio decidendo di farlo ogni settimana come avremmo potuto andare avanti perché poi gli argomenti finivano secondo alcuni scegliamo soprattutto ascoltando i nostri lettori il mio giornale in cui c'è un fortissimo rapporto con i lettori che ci scrivono ci mandano le lettere ancora con i franco bolliveri e quelli che ci scrivono invece con le mail io 30 anni fa mi sono laureata lavoravo già lì con una tesi di linguistica generale ve lo dico perché è interessante capire cosa significano le nostre lettere mi sono guardata centinaia ma forse migliaia di lettere che arrivavano al nostro giornale e si passava dalla moglie che chiedeva al padre se doveva lasciare il marito perché lui aveva scoperto che lui la tradiva a delle scatolette di caffè con dei buchini e vi ho mandato i vermini che ho trovato nel mio orto perché così vedete proprio come sono e mi consigliate che è diserbante usare è stato un mondo conoscere credo che quella sia il patrimonio che mi è servito negli anni di più negli anni 30 anni seguenti per capire a chi stavo parlando allora noi dicevo ascoltiamo molto i nostri lettori quindi sia diciamo il racconto di qualche storia che poi andiamo a sondare sia gli argomenti che ci propongono e questo forse è un po' strano perché invece se voi immaginaste la scrivania di un caporedattore un computer noi tutti i giorni abbiamo delle sollecitazioni fortissime ad occuparci di temi legati all'educazione dei figli alla famiglia come dicevo prima molte sollecitazioni legate al mercato ma anche molte sollecitazioni legate a quelle che io chiamo le mode del sociale io mi ricordo sono abbastanza vecchia per aver iniziato a scrivere le prime volte del fenomeno della violenza in famiglia e mi ricordo che il mio caporedattore di un tempo quello di cui ho preso il posto sfortunatamente mi ha detto ma no ma noi queste cose così interessano poi i nostri lettori a violenza in famiglia ma no dico guardi no vabbè poi man mano capite che è diventato un argomento per quelli che sono giovani un'ovvietà per quelli che sono meno giovani non è un'ovvietà che di questi argomenti si parlasse nei giornali e queste un po' mode educative potrei dire l'anoressia disturbi alimentari il bullismo l'autismo la dislessia io dico mode perché se voi osservaste i giornali notereste che a un certo punto parte un argomento e parte e si deve scrivere solo di quello come parte un fatto di cronaca e allora si vanno a cercare tutti quelli simili fatti che in un altro momento sarebbero stati ai tempi c'erano le agenzie io faccio così perché si buttavano adesso si cancellano però un altro punto su cui vi vorrei invitare a riflettere visto l'uditorio è quello degli esperti perché ci sono tre tipi di esperti ci sono gli esperti che amano molto diventare famosi non farò il nome ma io mi ricordo decenni fa uno psichiatra che mi spiegava che era disperato perché i giornalisti i miei colleghi gli telefonavano a qualsiasi ora del giorno o della notte per chiedergli parere sulle cose più strampalate più lontane dalla sua specializzazione e io ingenuamente ho detto scusa ma perché tu dillo no su questo non ho niente a dire dice no perché voi siete bastardi perché poi non mi chiamate più e era comunque molto interessato a come dire diventare noto e poi diciamo è partita questa cosa dei modellini della casa il sangue le cose e quindi lì non ha avuto problemi a diventare famoso ma invece preferisco fare il nome di un'altra persona per darvi l'idea l'altro esperto è faccio il nome di Pietro Polli Charmé voi li telefonate per intervistarlo sul bullismo dice no ma io quello no dico ma professore mi deve dire tre cose sapete la superficialità ai giornalisti no mi dici tre cose no 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 perché quello è un problema che ha studiato la mia collega guardi le do il numero e quindi diciamo Pietro Polli Charmé un uomo che si fa da parte che potrebbe sì dire tutto su tutto ma che si rifiuta di fare il tutologo perché parlo di questo perché per noi il rapporto perché noi siamo diciamo come dire di contratto i superficiali quelli che si occupano ogni giorno di un argomento diverso per noi è fondamentale avere qualcuno con cui rapidamente avere un parere ma se ci troviamo da una parte quelli che vogliono diventare famosi magari qualcuno sono simpatici per me di default c'è una persona uno specialista che mi manda un'email al giorno e mi dice tutti i suoi pareri su tutto su tutto e continua io proprio tra 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 cioè non lo intervisterò ma neanche fosse l'ultimo uomo sulla faccia della terra ma d'altra parte però vi volevo invitare a riflettere sugli altri perché invece per noi è fondamentale trovare qualcuno che ci faccia essere meno superficiali gli altri sono gli specialisti gli esperti gli psicologi gli assistenti sociali io vi dicevo mi sono occupata di rapimenti adozioni affidi quindi occasioni in cui trovi anche delle persone non il grande esperto ma che in molti casi sono prevenuti quindi diciamo i giornalisti la stampa con te non ci parlo oppure il grande esperto che tu gli chiedi io sono il caporedattore anche di Famiglia Oggi che è una rivista di studio che spero conosciate perché me ne vanto molto rispetto a Famiglia Cristiana perché lì siamo un pochino meno superficiali e mi capita spesso di sentirmi dire ma quando glielo faccio io gli spiego l'argomento bello interessantissimo dice guardi sarebbe ci sono più o meno due mesi due mesi ma si figuri io per un anno non posso assolutamente scrivere nulla allora c'è questa come dire stacco tra i nostri tempi e quelli che hanno le persone che invece sanno in mezzo a questi due poli secondo me c'è un bellissimo terreno di collaborazione che noi a Famiglia Cristiana abbiamo tentato e abbiamo cercato di risolvere in questo modo noi in San Paolo c'è un centro studi che si chiama CISF Centro Internazionale Studi sulla Famiglia abbiamo questa rivista di studi che si chiama Famiglia Oggi cosa abbiamo pensato in questi anni di fare un pensatoio con delle persone che sanno conoscono e fanno parte del comitato scientifico che decidono gli argomenti che sviluppiamo in questo bimestrale di studi che poi noi che siamo appunto quelli che lavorano sul superficiale cerchiamo di spremere per tirare fuori un'inchiesta un articolo per Famiglia Cristiana che sia leggibile e abbia un fondamento chiudo dicendo perché la sua provocazione mi è sembrata molto interessante perché anch'io sentendo il professor Iullo ho detto perfetto per un giornalista perché tre racconti cose tra inedito e la signora che dice però ok che cosa comunichiamo all'ipotetico lettore perché non c'è nulla di peggio nulla vi faccio un esempio personale io sono stata molto malata ho avuto il cancro non c'è niente di peggio di leggere un articolo che dice ma si si guariscono tutti e tu sei lì che non c'hai un piede nella fossa senza capelli che il mio radio no tu non hai bisogno di sentirti dire ma si 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 le percentuali sono aumentate i capelli ti ricrescono tu hai bisogno di sentirti dire guarda ci sono passato anch'io c'è questo puoi fare questo e poi ti consiglio la piccola quotidianità allora per tornare al suo discorso la sfida è non essere diciamo superficiali non far passare questi messaggi molto che non sono incoraggianti perché non ti riconosci ma far passare vado ai valori quello che per noi è fondamentale per noi l'unico vero valore non ammazzare la speranza questo è la cosa allora come dire questa cosa si può fare secondo me insieme giornalisti superficiali consci di esserlo esperti operatori i lettori stessi che ti raccontano perché dicevo può servire anche solo sapere guarda questo problema come diceva la collega mamma quando hai tre figli cosa che scereggiamo anche solo mandare la piazzetta davanti a scuola e sentire che anche la figlia dell'altro forse sarà bocciato così non ti senti sempre una mamma di quello quindi questo secondo me è il terreno dove si può lavorare per far passare alla gente il messaggio chiaro ai genitori alle mamme che non siamo soli manuela trinci grazie davvero tutti gli interventi sono stati così stimolanti da cambiare tutto quello che uno aveva preparato comunque per dare il senso della tenuta nel tempo di cui parlava Susanna Mantovani io due anni fa ho fatto le nozze d'argento con l'unità quindi siamo diventati praticamente una famiglia molto solida nel senso che io sono cresciuta anche tra le pagine dell'unità e l'unità si avvalza in contemporanea della mia crescita professionale varie specializzazioni eccetera eccetera devo dirvi che io ho iniziato appunto nell'85 e ho iniziato con i libri con i libri recensendo libri e piano piano appunto indirizzandomi sempre di più nel settore materno infantile come mi definivano lì al giornale e sentendo anche tutta la responsabilità di questo perché l'unità è stato un giornale fondato da Antonio Gramsci Gramsci scriveva le lettere le storie per i suoi bambini e poi era un giornale dove aveva avuto una rubrica Rodari e poi Marcello Bernardi quindi quando nel 2000 mi proposero la rubrica Microbi io lì per lì ebbi un attimo di divertimento mi ha colpito molto nell'intervento di Jules questa idea che si lavora anche divertendosi Winnicott sceglieva i possibili terapeuti infantili se si mettevano a sedere nella maniera in cui si mettevano i bambini per metterli alla scuola di specializzazione quindi sicuramente io mi diverto moltissimo a scrivere ne sento anche la fatica appunto e la responsabilità allora quello che seguendo un po' il filo di Madera che mi sembra interessante io cerco di mettere dentro appunto dal 2000 al 2009 io ho avuto una rubrica prima per i bambini nella fascia 05 poi 714 poi il giornale è cambiato adesso io ho una pagina ogni 15 giorni che compongo totalmente dalla scelta dell'argomento alla scelta del libro in alto nella parte alta del giornale che fa un po' da diciamo così da presa dell'attenzione alle due schede che sull'argomento di libri che io consiglio sull'argomento quindi una libertà devo dire anche totale all'interno di un giornale allora io cerco di seguire un po' il Rodari quando parlava delle feste di non compleanno e scelgo di non dare consigli sebbene questa all'inizio fosse stata per esempio un periodo in cui al giornale aveva avuto la rubrica una mi ricordo il nome in questo momento forse non è un caso e comunque non era andato bene perché era troppo di tipo con consigli sopra allora noi abbiamo scelto facendo microbi di non dare consigli io avevo provato inizialmente e qui arriva forse quella che per me è stata una grande scoperta e davvero un arricchimento poi continuo avevo pensato di segnalare in fondo ai vari argomenti che si trattavano il fratellino la gelosia la nanna la cacca la pupa perché poi gli argomenti sono sempre appunto questi prima o poi finiranno si era pensato di mettere un buon libro da consigliare ai genitori sull'argomento io mi sono accorta che non ce ne erano noi già avevamo fatto grandi paginate di critiche a una manualista a una manualistica di basso costo veramente come far ridere il bambino come organizzargli la festa del compleanno come portarlo al mare e che sia contento voglio dire ma il genitore esisterà no? prima o poi voglio dire non è che gli si debba dare tutta questa manualistica e quindi non c'erano allora lì fu un colpo ma forse i libri per bambini possono davvero avere qualcosa di bello di poetico no? e allora lì cominciò questo lavoro di una ricerca nella letteratura per bambini e ragazzi che seguisse questo filone cioè il genitore in fondo leggendo un libro di paura del buio raccontata dal bambino dallo scrittore per l'infanzia che quando i libri sono belli anche lì ci sono ovviamente anche quelli brutti ma i libri belli sono epifanie sono una maniera con cui dall'interno te arrivi a vedere cosa può pensare un bambino cosa può provare un bambino quindi erano queste tremila caratteri perché poi per noi insomma non è nemmeno facile sta dentro esattamente a carattere quindi insomma ci sono tante complicazioni per chi non nasce giornalista però secondo me è anche un bel una bella scuola di antinarcisismo negativo nel senso che ti adatti se ti fanno un taglio lo prendi e quindi insomma piano piano appunto ripeto si cresce insieme poi appunto avendo trovato questa formula anche oggi che i caratteri sono molto di più e che c'è il paginone del libro io devo dire che lo utilizzo molto perché trovo che il libro sia un mediatore gentile fra quella che è un media gentile fra quella che è la realtà che una famiglia vive i genitori vivono e il mondo dei bambini un modo anche leggero per parlarne è come se questo parallelepipedo di carta fosse un po' un oggetto uno spazio transizionale dove anche le emozioni si veicolano e in questo senso devo dire che io ricevo mediamente scrivendo due volte al mese una dalle 20 alle 25 email al mese sapete cosa mi chiedono i genitori i consigli sui libri perché nati per leggere è un sito che è molto diffuso i genitori lo seguono però non è personalizzato allora uno mi scrive magari morto il nonno quale libro mi consiglierebbe lei ho notato appunto sono stata malata ho avuto un tumore ho avuto una grave malattia spesso sono argomenti difficili altre volte sono le nascite dei fratellini ecco mediamente io ricevo un 6-7 lettere al mese su questo fratellino che non è ancora nato sta per nascere il genitore è già preoccupato e qui la dice lunga sull'osservatorio dell'ospedale degli ignocenti di cui si parlava dove viene fuori veramente un'immagine di bambino a rischio che mi sembra interessantissimo e io sento che anche noi abbiamo delle grosse responsabilità perché da ultimo uno lo prenderebbe e lo butterebbe nella pattumiera cioè perché se verrà il diabetico e se poi gli viene anche il tumore se poi gli va via capelli se poi non gli nascono denti magari gli viene anche il colesterolo che bambino ho fatto quindi ecco in media sicuramente insistono su questo così come mi sembra importante una delle connotazioni date da un sociologo che è Frank Furedi il libro edito dalla Feltrinelli quando parla di troppa psicologia nella vita quotidiana cioè da me arrivano bambini e mi fanno io ho avuto un trauma magari un gli hanno comprato gelato sono stressato in Inghilterra c'è il distintivo degli scout anti stress capito i genitori fanno avrà mica l'edipo tre anni allora uno cosa si domanda e cosa gli si sta cosa si sta scrivendo questo mi sembra una cosa importante un'altra questo io penso che sia un po' un mio modo però di essere che i lettori apprezzano molto e alcuni hanno parlato di un'autenticità cioè il mio scrivere viene dalla mia vita passata e trascorsa interamente tra i bambini vuoi quando vado a fare le conferenze a nidi vuoi quando io li vedo in ambulatorio vuoi attraverso delle associazioni eccetera eccetera poi il bambino i bambini le questioni della famiglia ti arrivano dentro e allora quando si parla appunto di un bambino a rischio quando si parla noi abbiamo stroncato SOS Tate capito io di questo ne vado fierissima perché sono come un genitore viene con un problema ci vogliono anni di tempo per capire quello che succede e queste in una settimana capito ci tolgono lavoro in parole povere quindi bisogna assolutamente combattere ecco un altro punto forte del giornale è che non c'è fretta ci possiamo ritornare sugli argomenti noi se fate caso non seguiamo mai le novità editoriali non seguiamo che dopo un anno i libri si buttano se non hanno venduti si riprendono e questa è una cosa veramente secondo me bellissima stiamo lenti i genitori corrono un bambino ha una scuola materna ma ha disegnato la mamma il babbo lui stesso sullo skateboard con il cellulare e il gatto dietro a seguito anche lui sullo skateboard una rappresenta tutti anche certo anche il gatto vogliamo mica deprivare capito quindi sono sicuramente e ripeto è una crescita per esempio i blog gli argomenti vengono anche da lì allora si scopre che ci sono le comamme ci sono anche le mamme che non mettono pannolone al bambino che mettono pannolone di stoffa anche alla bambola così che il bambino non impari che ci sono pannoloni di plastica che possono far male sull'allattamento si scopre che ci sono mamme che non posano il bambino perché devono essere pronte a allattare e anche qui uno si domanda come delle mode educative sono arrivate cioè uno pensa di dire delle cose in dolore certe volte ma non è così dipende poi dalle persone a cui vanno vanno calate queste risposte e queste proposte così come il lettone gli argomenti sono tanti mi sembra interessante appunto la nostra lentezza dell'unità questa idea appunto di una serietà che va da quando si facevano i pionieri dell'unità a giorni nostri che questa lentezza è tutto che fa un po' da contrasto io lo devo dire con la mediaticità perché per esempio io sono stata intervistata quella intervista a cui si riferiva Madera tre volte da Repubblica e ho ricevuto telefonate da tutti eri su Repubblica no eccetera dopo trent'anni di onorata carriera all'unità nessuno mi considera e su questo io credo che ci possiamo fermare grazie intanto a tutti per questa falalto vivacità e perfetta tenuta dei tempi ho già avuto una richiesta di poter controbattere questo mi rende il lavoro più facile per il secondo giro da Simona Capri e se riusciamo a terminare il giro nostro una meno un quarto una meno 17 o 18 o almeno 17 o 18 minuti da lasciare a una voce pedagogica a Maria Grazia Contini e all'una possiamo tutti fare una pausa vera prego sì ho voluto subito riallacciarmi al discorso perché mi è piaciuto moltissimo l'esempio anche in consulenza pedagogica no arrivano i genitori che mi dicono ma forse è un trauma no perché è nato il fratellino quindi tutte queste problematiche e spesso chi mi conosce mi dice come mai hai accettato tra virgolette di farti chiamare tata quando tu sei una consulente pedagogica allora la scelta è stata quella di voler veramente smettere di medicalizzare il ruolo dei genitori no quindi questa sorta di difficoltà a priori quindi stai attento tra depressione e post parto no perché sai poi il bambino se il genitore il tuo marito lavora fuori casa quindi potrebbe vivere un trauma d'abbandono e di conseguenza quindi questa difficoltà già a priori questa fatica che ancora prima di riuscire a decido di avere un figlio ma probabilmente farò fatica quindi dovrò già cercare una ginecologa per i problemi cioè tutta una serie sembra tutto molto difficile in realtà non ritengo sia sempre semplice ritengo però che la cosa importante soprattutto per la tipologia di approccio l'approccio mediatico è inevitabilmente soprattutto nelle reti dove sono stata io all'inizio è molto semplice e quindi era proprio un voler semplificare questo approccio genitore figlio cioè ridare un pochino di spontaneità ai rapporti permettere proprio di essere veramente se stessi cioè un bambino ama il genitore in quanto tale indipendentemente dalla sua competenza ora non è necessario prendere una laurea in psicologia per fare la mamma e non è necessario che il papà ne prenda una in pedagogia così almeno si dividono i compiti perché il genitore poi si sente il bambino poi si sente veramente in difficoltà perché se questi genitori sanno tutto allora anch'io devo correre per poi sapere tutto sbagliare permettersi di sbagliare sedersi chiedere scusa ricominciare molto semplicemente è secondo me l'educazione migliore che possiamo dare a questi bambini cioè veramente cercare di semplificare un pochino il tutto da qui la scelta proprio di questo nome molto dolce che è Tata anche se può essere delle volte confuso tutti mi chiedono se lavoro con SOS Tata ma tu sei quella della Sette tu lavori con Tata Lucia no? è un classico perché comunque adesso la Tata è vista così per me invece è proprio un modo di scendere un pochino come si diceva gli operatori che si siedono all'altezza dei bambini ecco abbassarci un pochino anche all'altezza della competenza genitoriale che non è necessariamente così alta non deve essere necessariamente così alta ma solo in reali momenti di difficoltà è necessario approcciarsi a uno specialista e a quel punto diventa uno specialista ma diventa uno specialista perché ci sono delle problematiche altrimenti diventa un confronto e il confronto deve essere necessariamente semplice questo è un po' era per rilacciarmi al discorso che secondo me è un punto cardine fondamentale per cercare di capire qual è un po' in questo momento la difficoltà del genitore ho una richiesta di commento poi mi sembra che sia veramente una tavola rotonda o quasi poi non sai cosa pensavo io rispetto a questa cosa a questa cosa delle competenze dei genitori dello psicologismo guarda secondo me ci hanno messo del loro molto anche gli psicologi in questo senso qui a un certo punto c'è stata una grande crisi del lavoro allora gli psicologi hanno cominciato a fare i pedagogisti togliendo sottraendo anche delle competenze e si è cominciato a patologizzare il normale io credo che questa sia proprio un qualche cosa da leggere da inquadrare anche nell'ambito proprio del lavoro della mancanza di lavoro e quindi di un irradiarsi nel sociale di competenze mentre lo psicologo in fondo è uno psicologo clinico quindi si deve occupare se un bambino è davvero iporessico che me lo portino non che mi telefonino prima che nasca fratello o se dieci giorni dopo esperienze testuali che vanno a scuola non hanno ancora imparato a leggere o a scrivere perché questo vuol dire che qualcosa nel sociale non sta funzionando più ecco solo questo poi c'è qualcuno che vuole chi vuole la parola Claudia io volevo sollevare una questione non polemica però secondo me c'è un assente e da un lato è giusto che non sia stato nominato mi è piaciuto molto il fatto che questo convegno sia stato chiamato genitori e non mamma e non papà e questo lo trovo fondamentale il fatto poi che diciamo il discorso l'intervento diciamo più pesante ma nell'accezione positiva della pesantezza sia stato fatto da un pedagogista danese rende questa attenzione sul genitore ancora maggiore dei genitori il genere non è il problema però e io mi chiedo a questo proposito proprio essendo tra i media se possono avere un ruolo in questo è allora noi siamo ancora in un posto dove io lo vedo quando lo faccio io cioè se io racconto che mio marito svuota la lavatrice ricevo 30 commenti di donne che mi dicono tuo marito è un figo pazzesco tiente lo stretto allora è molto bello parlare di genitorialità di SOS genitori è molto bello che Gesper Giulci racconti come è importante il padre ma noi siamo ancora molto indietro in questo non è un caso che in una facoltà come questa siano moltissime ragazze adesso non so i numeri e che in un in un argomento come questo in un convegno come questo siamo quasi tutte donne allora mi chiedo cosa i media e lo chiedo ai presenti a questa tavola possono fare in questo senso perché le rivoluzioni si fanno dappertutto cioè bisogna mettere paletti dovunque dar fastidio da tutte le parti perché questo cioè facciamo quelli che sono superiori parliamo di SOS genitori ma purtroppo finché qualcuno si stupirà perché un papà cambia un pannolino vuota una lavatrice forse i nostri problemi sono ben più grandi ecco allora a questo punto mi compete prima avevo una richiesta avevamo pensato due uomini non proprio un equilibrio perfetto uomini e donne ma un po' meno minoranza ma purtroppo Vignalia non ha potuto essere con noi svuota la lavatrice e poi qual'altra cosa vuole rispondere e poi do la parola a te allora io la carico la svuoto stiro e cucino benissimo quindi ecco nonché avendo poco da fare vado a prendere il mio figliolo a scuola quasi sempre quindi che ha otto anni e se ne esce quando questo è un tema comunque interessante se ci pensate allora ci sono due cose che mi piacerebbe evidenziare la prima come risposta è che tra l'altro è abbastanza bizzarro perché visto dal lato appunto io ma come molti miei amici e colleghi che facciamo le cose normali è bizzarro essere fuori sempre fuori messaggio cioè quando si parla di detersivi per esempio perché non mettono uno pelato con i baffi che io mi ci ritroverei anche più volentieri onestamente non ho mai capito bene il colorato il bianco quindi uso una temperatura media da economista industriale ho ottimizzato il processo quindi viene da un grigio chiaro a una cosa ma secondo me è abbastanza piacevo dove trovo un tizio che mi dice guarda Fabrizio sai che c'hai ragione c'è quella maledetta macchia di vino dalla tovaglia che non viene via e non mi fa andare fuori posto lo ritrovo sempre in rete lo ritrovo sempre nel caledoscopio delle personalità lo ritrovo nel blog perché attenzione la rete funziona sugli interessi e non funziona sulle diciamo così segmentazioni demografiche se ti piace parlare di cucina vai a parlare di cucina e c'è il pensionato l'architetto ma si parla di alici basta non è così drammatico c'era un blog molto bello che addirittura fu fonte era la prima fonte consultata da Enkel per la ricerca e sviluppo pensare e se non mi ricordo mai si chiama per il pulito autentico il vero pulito una cosa del genere che aveva 20.000 autentiche voglio dire in Italia che non è una cavolata e dove uno diceva c'ho il problema che c'ho la macchia che non viene via dal divano e lì c'era una specie di tras di chimici in erba che diceva se tu metti un po' di questo con quell'altro poi fammi sapere l'ho messo ma si è sciolto anche il divano allora togli ed è molto interessante perché questo ci dà due cose primo il fatto che esistano passioni interessi desideri volontà assolutamente degne in quanto tali e non perché appartengono a specifici soggetti e questo è un salto in avanti che i mass media per forza non riescono a fare ma i blogger mamme o quelli che vanno gli uomini e le donne dialogano a parte che sulle macchie chiedevo se gli uomini e le donne su questi temi dialogano non solo sulle macchie o se sono monogeneo e queste conversazioni allora se il blog lo chiamate blog mamme i papà non ci vanno ed è un problema di test se lo chiami blog bacchie se lo chiami blog bacchie trovi un sacco di gente bizzarra assolutamente come se lo chiamate storia dell'uniforme austriaca del XVII secolo troverete maschi e femmine gente che ti scrive c'ho la fibbia del mio nonno qualcuno mi sa spiegare diventa un mondo molto particolare e questo però mi permette di passare a un secondo tema che è un grande passaggio che ancora non abbiamo digerito che è legato a due cose primo tutto quello che cerchi pressa poco esiste non avete mai avuto la vertigine di Google io mi ricordo quando facevo l'assegnista di ricerche in Bocconi che devo andare in biblioteca basta e chi ti vedeva più ti chiudevi dentro spulciavi le cose per avere quattro articoli fetecchiosi dove è andato in biblioteca te lo dicevano con un poveraccio e quando lo rivediamo adesso tu vai su Google Scholar e metti qualunque cosa stravagante ti appaiono e lo Google lo fa in fretta ti trova ho messo recentemente per una cosa come lo chiamiamo mettiamo lusso nel titolo oppure no di questo programma ho messo master lusso e Google senza fare fatica mi ha detto Fabrizio ha trovato 80 milioni di record in una frazione di secondo chi è un esperto in un mondo fatto così e come si definisce un esperto perché su quella roba lì andate a guardare premesso che mediamente tutti quanti si fermano i primi quattro e poi se non trovi quello che vuoi cambi sopra e ricominci non è che va alla pagina 2 credo che si dice che il miglior posto dove nascondere un cadavere è a pagina 2 di Google Search l'esperto è un traduttore l'esperto è uno che mi aiuta a capire tutta quella roba lì è un mondo di esperti molto diverso se ci pensate da Wikipedia che batte l'enciclopedia britannica ad altri fenomeni però noi chi cerchiamo cerchiamo uno che ci aiuti a non perderci e quello che ci aiuta a non perderci è più facile che sia un tizio che mi assomiglia se devo parlare di detersivi io non voglio parlare con il chimico della Enkel voglio uno calvo con i baffi che mi dice Fabrizio che fuma i sigari mi dice Fabrizio sai che c'era pure io guarda un disastro una cosa magari non abbiamo la soluzione proprio pronta però possiamo lavorarci sopra e viene qualcosa di sensato questo è un è un salto gigante sia nel definire l'autorità che è contestuale non è antecedente è uno che mi ha aiutato a risolvere un problema appunto e il secondo tema è che passiamo da un mondo con categorie molto dense quasi impenetrabili i maschi sono maschi le femmine sono femmine i maschi capiscono di calcio io non capisco un accidente di niente di calcio in generale avendo poi il fisico da giocatore di dama proprio non ho mai praticato uno sport in vita quindi usciamo dal mondo degli stereotipi entriamo proprio nel mondo delle passioni degli interessi e non della statistica una cosa sola quando ero a Siena con l'istituto degli innocenti una cosa che ci aveva preso una tristezza perché dovremmo fare una ricerca sul disagio dei giovani ancora cosa c'è non trovo casa non trovo lavoro è drogato la ragazza l'ha lasciata oggi piove allora colpo di scena ma possiamo fare il contrario possiamo chiedere cosa gli garba ma se gli chiedete cosa gli garba sapete che succede una cosa drammatica dovete accettare il fatto che c'è chi gli garba di stare a casa con la mamma c'è chi gli garba di giocare a pallone e hanno tutti lo stesso diritto e questo è un salto ripeto tipicamente da rivoluzione digitale accettare il fatto che uno vuole fare una roba e la può fare cioè adesso e il problema è che la regione toscana poi non poteva fare un servizio per tenerti a casa con la mamma perché poi per lo stereotipo diventava una cosa dal bamboccioni dice ma mia amica io non voglio andare a nessuna voglio stare a casa con la mamma posso ho 54 anni quindi non sono neanche più tanto giovane ma mi va fammelo fare perché non lo posso fare l'esperto è quello che ci permette di lavorarci sopra una bella definizione c'è una richiesta da si volevo dire una cosa sugli uomini perché io ho una rubrica una sfida che abbiamo fatto con Alberto Pellai un giorno ci siamo detti va bene tu rispondi alle domande delle mamme e io dei papà io ho il problema che i papà non ne fanno tante di domande e insisto perché è una cosa un po' singolare non ho capito se non le fanno perché non si fidano di me che potrebbe benissimo essere o proprio perché i papà però vi volevo raccontare questo quando le fanno spesso riguardano le questioni funziona così mia moglie vorrebbe mandare mio bambino al nido mia mamma invece vorrebbe cioè spesso la domanda è su insomma un discorso di suocere il consiglio è su un discorso di suocere e un po' anche su questa cosa dei lavori in casa io lì un po' a me piace sparigliare un po' le carte vabbè dico sempre che la parità di lavoro la mamma lo deve fare così invece se non altro gli uomini che sono aumentati che fanno queste cose però raccolgono dalle vecchie zee dei complimenti stratosferici è bravissimo è bravissimo e tu fai esattamente le stesse cose da una vita lavori tutto il giorno però invece anzi però da mangiare non sei capace questo qua quindi diciamo sicuramente è vero però io sarei disposta tornando indietro a fare tutte le lavatrici le cose in padri il momento che proprio su cui credo bisogna assolutamente convincerli che devono assolutamente esserci anche se non mi nascondo che si prepara prima a questo momento e quando il bambino profumato che ti vuol bene mamma vieni ti abbraccia si trasforma in quello non profumato che non fa la doccia che non si lava i capelli l'insopportabile adolescente allora lì i padri devono esserci io dieci lavastoviglie ma il figlio che non studia a scuola così secondo me barattiamo magari non diciamolo troppo ma barattiamo il resto certo rischio che non facciano nessuno delle due cose e anche immagino che chi ti aiuta prima quando il bambino è piccolo potrebbe anche essere lo stesso padre che è presente dopo però dopo nascondiamocelo dopo è fondamentale essere in due tempi perfetti io sono veramente gratissima a chi ha scelto chi è partecipato a questa tavola rotonda e quindi alle amiche che vedo in prima fila e a loro per la vivacità i tempi e la profondità delle cose che ci hanno detto prima di dare la parola per concludere a Maria Grazia Contini vorrei solo dire due cose uno che forse io sono un altro tipo mi devo nella classificazione degli esperti vorrei fare quando sarò più vecchia scriverò una storia delle interviste ma non so se sarò capace un terzo charme un terzo dipende cioè perché questa è un'altra categoria mi chiedono una cosa ma è così eccola dipende e un terzo in genere faccio domanda a chi mi intervista gli chiedo ma lei ha bambini come si chiamano quanti anni hanno allora come è lo aggiungo a questa classificazione la seconda considerazione è che ho capito perché ci sono tanti libri su come fare dormire i bambini perché tutti sono di notte a fare i blog con questo do la parola a Maria Grazia Contini credo che molti dei presenti la conoscono Maria Grazia Contini è una docente di pedagogia a Bologna ed è anche una carissima amica allora questa è una tavola rotonda molto interessante molto vivace molto brillante tutti hanno riso moltissimo e adesso arriva l'esperta arriva l'esperta e vorrei dire che è il quarto tipo di esperto noi abbiamo come caratteristica di essere pesanti come pedagogisti e vorrei dire a Claudia De Lillo che Yule non è pedagogista per cui non è pesante è roba da ridere noi siamo pesanti ho chiesto una volta a un amico che lavora in televisione e gli ho detto ma perché quando si tratta di parlare di problemi educativi chiamate si chiamano insomma generalmente se va bene un pediatra se va benissimo uno psicologo se va in un altro modo Alba Parietti allora lui mi ha detto perché siete pesanti ma perché Alba Parietti perché è famosa parliamo di media e parliamo e parliamo di famiglie e parliamo anche di noi anche di noi pedagogisti sicuramente abbiamo le nostre responsabilità in questo però intanto volevo dirlo volevo presentarmi come l'esperta pesante in modo che posso cominciare il mio intervento così come avevo pensato e non non mi sento in obbligo di adeguarmi e di andare sull'onda del loro stile perché anche questo è importante non dobbiamo mai scimmiottare gli uni gli altri è importante che ciascuno abbia il suo ruolo abbia la sua professione abbia la sua identità perché è così che forse ci possiamo aiutare anche amare è bene perché amare è difficile comincio da una citazione di Rilke poeta che amo molto anche amare è bene perché amare è difficile è difficile amare il proprio partner anche quando lo si ama è difficile amare i propri figli anche quando li si amano forse perché è difficile amare se stessi come ci ha insegnato la psicanalisi o perlomeno è difficile amare se stessi bene tra virgolette in un modo che faccia del bene anche prendersi cura di un altro dell'altro è un bene perché prendersi cura è difficile è difficile prendersi cura dell'altro come partner è difficile prendersi cura dell'altro come figlio forse perché è difficile prendersi cura di sé se per prendersi cura vogliamo dire accudire i nostri sentimenti le nostre emozioni prendere consapevolezza dei nostri pensieri progettare le nostre relazioni allora se l'amore e la cura sono difficili le famiglie che vivono tanto profondamente le dimensioni dell'amore e della cura non possono che avere esperienze di difficoltà di complessità mettendo in questi due termini tanto di problematico e tanto di arricchente sono parole belle importanti che sia difficile è solo un motivo di più per scegliere qualcosa dice sempre Rilke che ci invita all'impegno e a dare senso al nostro esistere non a scegliere il facile invece però non è così non è così per tutti diciamo che prevalentemente la difficoltà e la complessità spaventano e allora si ricorre alla semplificazione la semplificazione è una tentazione molto inaguato come approccio a tutto quello che è difficile e complesso peccato che come dice Moren la semplificazione non riduce la complessità la toglie la toglie di mezzo e quindi toglie anche tutta la ricchezza che la complessità contiene però è così c'è la tentazione e c'è tanta semplificazione per quanto riguarda le famiglie io sono solita raccontare un tipico modo di semplificazione che è il paradigma della nonna Ida nonna Ida è mia nonna era mia nonna è la mamma di mia mamma quando mia mamma si è sposata con mio papà lei aveva 18 anni e lui ne aveva 20 e lui stava per partire per il servizio militare che poi sarebbe diventato in realtà permanenza nella guerra quindi sarebbe ritornato 5 anni dopo però si sono voluti sposare perché avendo 18 e 20 anni pensavano è meglio che ci sposiamo subito così nulla ci dividerà quindi è quel progetto di due ragazzini la nonna Ida dopo il matrimonio si è avvicinata a mia madre e le ha detto bene ti sei sposata ricordati che può andare bene può andare male deve andare bene e la nonna Ida era una che ci teneva molto diceva lei alla famiglia ci teneva moltissimo e credeva che salvaguardando la morfologia della famiglia si salvaguardasse la famiglia questa semplificazione della nonna Ida che è interessata al fatto che la famiglia rimanga quella famiglia lì che è fatta di un ragazzo di un maschio femmina un uomo sono sposati in chiesa deve rimanere quello che è per sempre questo è quello che la nonna Ida chiede disinteressandosi completamente di sentimenti emozioni progetti relazioni non gliene importa deve andare bene deve rimanere questa è una semplificazione che è passata è rimasta c'è ancora ho pubblicato pochi anni fa due anni fa un volume intitolato molte infanze molte famiglie e in tanti mi hanno detto perché porre quell'accento su molte famiglie è un problema che c'è però perché non parli della famiglia della famiglia non metterla anche tu al plurale non andare dietro questa cosa che è vista un po' come appunto solo problema nei media è passata è passato il paradigma della nonna Ida si è passato potentissimo quel paradigma è passato e per moltissimo tempo è stato presentato quella come famiglia quella che funzionava veramente ma sono passate nel tempo altre semplificazioni perché noi adesso qui abbiamo avuto e non a caso sono state invitate delle persone splendide che hanno parlato con molto senso di responsabilità del loro lavoro ma non vogliamo mica dire che tutti i media siano così non lo vogliamo mica dire vero? Allora parliamo di televisione parliamo di giornali e parliamo ci viene in mente la strumentalizzazione dei problemi stessi la anche come devo dire la spettacolarizzazione dei problemi stessi quei titoli che presentano sono le difficoltà dei genitori come se fossero qualcosa di cui ridere di cui prendersi beffe i bamboccioni che non riescono a mettere su famiglia oppure quanto sono fragili i genitori oggi quanto sono insicuri appunto si diceva quanto non sanno perché invece quelli di ieri come erano belli come erano forti vero? erano forti quelli della pedagogia nera quelli che sono passati alla storia per la violenza che esercitavano sui figli per la coercizione per lo svergognamento per il non riconoscimento delle loro emozioni dei loro pensieri quelli andavano benissimo invece questi come sono fragili ma la cosa terribile è che i media quando sono così non è che non influenzano influenzano molto dobbiamo parlare di questo grande potere che hanno per cui facendo ricerca abbiamo fatto una ricerca noi del dipartimento di Bologna noi tutti noi pedagogisti facciamo tante ricerche peccato che siano così pesanti che nessuno ne tiene molto conto ma facciamo molta ricerca facendo ricerca nei nidi parlando con le educatrici dei nidi io chiedevo qual è il problema fondamentale dei bambini di oggi secondo voi rispetto a quelli di i loro genitori come i loro genitori sì i loro genitori e seguivano esempi esempi buffi esempi buffi arriva la mamma col bambino a scuola e il bimbo ha una collana di perle che muove come un lazzo come il cowboy e la mamma dice toglieglielo tu per favore sono perle vere me le ha regalate mia suocere giorno del matrimonio prendeglielo per favore che non so riuscito ma perché non ci sei riuscito a prendere eh ma perché se no piange poi piange piange dai ti prego ti prego e va via ma io ci parlo dopo con quella madre e quella madre mi dice io porto il bambino alle otto al nido e lo rivedo alla sera e lo rivedo alla sera perché se non vado a lavorare con delle condizioni tremende perché sono precaria non mangiamo allora vado e non ho né mia madre né mia suocera vicino porto il bambino al nido ma io soffro star lontano tutta la giornata da mio figlio e secondo lei io cosa faccio porto mio figlio il mattino ci litigo anche faccio anche ho bisogno di essere in armonia con lui quei pochi momenti che sto insieme perché se no tutto il giorno c'ho il magone sto male piango a pensare a lui che piangeva e io che l'ho lasciato così allora in questo momento voi avete sottolineato opportunamente proprio lo spaesamento che c'è dal punto di vista culturale in questo spaesamento c'è anche una forte disalleanza tra soggetti sociali culturali che dovrebbero essere invece molto molto alleati e mi riferisco appunto all'alleanza che dovrebbe esserci tra i genitori e le educatrici dei nidi insegnanti delle scuole ma mi riferisco anche alla grande alleanza che sarebbe bene che ci fosse proprio tra noi che studiamo questi problemi che li approfondiamo che cerchiamo di andare oltre quell'eccesso di informazione che veniva fuori prima quando faceva il primo intervento Pini e diceva no migliaia 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 e anche lì mi viene in mente una domanda che è stata fatta e che dice quanta conoscenza perdiamo per l'eccesso di informazione in cui siamo immersi l'informazione non è conoscenza a volte impedisce la conoscenza conoscenza è un processo faticoso e ancora adesso lui è l'unico uomo prendo un po' l'unico abbia pazienza l'unico uomo qui ha detto prima io il consiglio preferisco averlo da qualcuno che mi somiglia scherzava sul fatto di dire sì per il detersivo va anche bene in generale no in generale no in generale è meglio che ci dica qualcosa a qualcuno che non ci somiglia tanto perché non ci dice qualcosa che abbiamo già nel nostro repertorio non ci dice qualcosa che si allinea perfettamente con quello che sappiamo già se ci dice qualcosa che ci risulta un po' estraneo che facciamo un po' fatica a capire ci dice soltanto che dobbiamo attraversare uno spazio dobbiamo fare un percorso ci dice soltanto che non è facile non è facile risolvere quel problema io invito sempre i miei studenti e le mie studentesse a leggere libri che non capiscono a vedere film che non capiscono a vedere quadri che non capiscono cercate di prediligere quello che vi è inizialmente oscuro personalmente amo molto andare a viaggiare in luoghi che mi sono completamente oscuri perché lì lo spaesamento lo sconfinamento significa mettere un attimo tra parentesi quello che sappiamo che vuol dire anche molto i nostri stereotipi la distanza tra il giudizio e il pregiudizio la fa la ricerca e quando facciamo ricerca e ricerca voglio dire sia la ricerca organizzata che facciamo con questionari intervisti focus group ma la ricerca è anche quel percorso che ognuno di noi accetta di fare per passare da una situazione in cui qualcosa non è chiaro è confuso non sa a una situazione in cui conquista conquista un po' di sapere conquista un po' di conoscenza e se poi ha la possibilità di confrontarsi con qualcun altro di mettere su un terreno in comune quello che ha scoperto e chiedere feedback allora cominciamo a ragionare sul fatto che si possa anche cambiare qualcosa perché bisogna poter cambiare bisogna poter cambiare poi non è obbligatorio ma bisogna poter cambiare altrimenti rimaniamo nella nostra identità sempre la stessa rimaniamo con i nostri stereotipi e pregiudizi e rimaniamo convinti però di non essere lì perché siccome dialoghiamo con tanti è come se fossimo così informati così arricchiti da questo da non aver bisogno di altro io non non svaluto assolutamente l'esperienza dell'essere in tanti e del dialogare con i blog dico che non basta dico che è una modalità che non deve essere l'unica perché è come il gruppo di autoaiuto va benissimo va benissimo quando ci si mette insieme si ha lo stesso problema e si esprime questo problema si ha un vantaggio dal sentire che anche tu lo condividi che anche tu ci sei passato che anche però non basta non basta bisogna anche fare un passo in più intravedere avere la possibilità anche di intravedere delle strade diverse e per intravedere le strade diverse bisogna avere degli strumenti di conoscenza diversi di avere la possibilità di andare oltre allora ecco io dico è interessante è interessante il lavoro che voi fate e a cui avete fatto riferimento è molto importante perché oltre che onesto oltre che etico come diceva Elasti ed è importante questa componente etica che si coglie benissimo per esempio quello che lei scrive io la leggo come credo anche voi la leggete e si sente che quando fa la sfigata tra parentesi tra virgolette fa una sfigata che però è impegnatissima è impegnatissima ad andare in una certa direzione che è una direzione eticamente fondata allora voi fate un bel lavoro noi abbiamo bisogno di voi e del lavoro che fate perché raggiungete un grande pubblico avete una grande responsabilità in questo senso e noi proprio abbiamo bisogno perché noi non possiamo arrivarci quello che fate è un'alfabetizzazione per esempio Emanuele Atrinci un'alfabetizzazione dal punto di vista delle emozioni dei sentimenti delle relazioni importantissima importantissima e forse anche voi avete un po' bisogno di noi perché noi abbiamo che siamo pesanti è vero però oltre alla pesantezza abbiamo che tutto il nostro riflettere il nostro agire anziché essere orientato a sedurre l'altro è orientato a liberarlo a renderlo autonomo la nostra comunicazione il nostro impegno educativo non vuole catturare consenso capite noi non abbiamo questioni di indici di ascolto o di popolarità o di quante volte hai visitato il mio blog ecco il mio impegno è un impegno che mi vede con i miei interlocutori a promuovere sempre di più la loro capacità di andarsene di sviluppare senso critico di essere appunto autonomi di diventare progettuali per la loro esistenza e dal punto di vista individuale della loro progettualità di coppia di famiglia allora questo fatto che noi non siamo interessati a quello che noi miriamo all'autonomia dell'altro e a dare delle possibilità di realizzazione esistenziale se è accompagnato se si intreccia in qualche modo faticosamente forse tenendo insieme quello che abitualmente insieme non sta perché siamo abbastanza divergenti però è questa la scommessa è questo che sarebbe interessante che non siamo noi esperti nel nostro mondo voi nel vostro ma mi piace pensare che ci possono essere delle forme maggiori proprio di intreccio di incontro e di lavoro insieme perché nello spaesamento c'è bisogno di molta educazione intesa proprio educazione come orientamento esistenziale come promozione anche come empowerment perché non è che penso alle persone che non hanno la capacità come empowerment delle capacità personali dei soggetti però c'è bisogno che tutto questo avvenga appunto in termini consapevoli